Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti a questo appuntamento con la professoressa Tajani, è l'ultimo di Letra, seminario di traduzione letteraria per quest'anno, per il 2020, poi ci daremo appuntamento per l'anno prossimo, e do il benvenuto alla professoressa Tajani per l'appunto, che presento subito, insegna lingua e traduzione francese all'Università per stranieri di Siena e si è occupata principalmente di critica della traduzione dal francese e ha al suo attivo una ormai densa importante opera di traduttrice, per la quale è anche beneficiato di residenze ad Arles, a Parigi, in Finlandia, in Svizzera e ricordo tra le sue varie traduzioni quelle da Jean Doe, da Kuperman, da Proust, Laurier e da Cocteau, tradotto l'Aquila a due testi per il quale ha ricevuto un importante premio, il premio di traduzione monselice, Leone Traverso e infine ricordo che ha tradotto l'opera intera di Arthur Rimbaud per la casa editrice Marsilio nel 2019. Oggi è con noi per intervenire su una traduzione all'interno dell'opera completa di Rimbaud, cioè il celeberrimo Battello Evro, che ha rieditato anche per la collana 10 per 1, 10 traduzioni per una poesia che è una collana istituita e diretta da Antonio Lavieri per la casa editrice Mucchi e ricordo anche che ha nella sua attività di critica della traduzione scritto e pubblicato una monografia dal titolo Tradurre il pastisce, sempre per la casa editrice Mucchi nel 2018. Questo incontro si inserisce all'interno del ciclo, di un ciclo di letra che è l'officina della traduzione, del tradurre, del traduttore, della traduttrice, diciamo così. La sostanza di questo ciclo è quella di fare intervenire persone, traduttori, sul loro proprio lavoro. E in questo caso, diciamo, abbiamo la possibilità di ascoltare Ornella Tajani, che ha questa duplice proprietà, cioè quella di essere traduttrice e di esperta di traduzione, di critica della traduzione, perché è molto importante, come dire, per la traduzione, almeno nello spirito del seminario di traduzione letteraria a letra, tener conto di questo duplice aspetto, cioè quello della pratica della traduzione e quella della teoria della traduzione, ritenendo che non ci sia vera teoria senza pratica, non ci sia vera pratica senza una coscienza teorica approfondita. Adesso non siamo qui per ascoltare me, siamo qui per ascoltare lei e quindi rinnovando il benvenuto e i ringraziamenti per aver accettato questo invito, le cederei subito la parola per intervenire proprio sul suo lavoro di traduzione sul Batoico. Ti ringrazio. A te la parola. Grazie a te Paolo, sono io che vi ringrazio di questo invito, mi fa davvero molto piacere poter parlare di questa effettivamente doppia esperienza, che da un lato è un'esperienza di traduzione e dall'altro di critica, come diceva Antoine Berman, esperienza da un lato e riflessione dall'altro. Questi erano i due termini con cui lui si proponeva di sostituire la dicotomia teoria pratica proprio per sottolineare l'importanza del processo di traduzione più che del prodotto finito. Quindi è qualcosa su cui io insisto molto anche con i miei studenti e in effetti è anche un po' l'elemento chiave di questo lavoro sul Battello Ebro, nel senso che il lavoro di traduzione per Marsilio dell'opera completa è durato complessivamente quasi sette anni, ci sono anche stati dei ritardi editoriali, però insomma è stato un lavoro molto lungo e proprio in fase di revisione delle bozze di questo lavoro mi sono ritrovata a fare questo studio di critica della traduzione sul Battello Ebro ed è stato molto interessante perché sono emersi degli elementi dal confronto della mia traduzione e del testo francese ovviamente con le altre traduzioni che magari non avevo considerato nella fase di traduzione per il lavoro con Marsilio. Io dirò proprio due parole sulla collana, quattro parole per introdurre o forse qualcuna in più per introdurre il Bato Iva e poi andremo proprio a vedere i casi di traduzione. Allora, il Battello Ebro, in realtà forse questa collana la conoscete già perché so che Antonio Lavieri è venuto a presentarla, comunque appunto esce in questa collana che si chiama Dieci per Uno, quindi dieci traduzioni per una poesia. L'idea è quella di prendere dei componimenti celeberrimi, quindi incredibilmente rappresentativi di un particolare poeta e di proporli in dieci traduzioni di cui una inedita del curatore del volume. Nel mio caso ovviamente la mia non era inedita ma stava andando in stampa in quello stesso momento anche in un'altra sede. E questa collana è un ottimo modo in realtà per approcciare questi componimenti da un punto di vista diverso, che è diverso e moltiplicato per dieci, perché naturalmente l'esplorazione di dieci traduzioni costituisce un viaggio nel tempo e nello spazio fra poetiche diverse, la poetica è anche la poetica del traduttore o della traduttrice. Emilio Mattioli ha molto insistito su questo concetto della poetica di chi traduce. È un viaggio tra diversi approcci traduttivi, tra tendenze ed evoluzioni lessicali. Nel mio caso con il battello ebro è un viaggio di quasi un secolo, quindi immaginate anche come evolve la lingua, come evolve l'approccio alla lingua, quindi un modo nuovo in questo caso di avvicinarsi o di addentrarsi nell'opera del Poet Voyant, del Poeta Veggente. Ci sono poi adesso, sono appena usciti altri due volumetti, ci tengo a precisare che questa collana non riguarda soltanto la letteratura francese, ma anche inglese, greca, adesso è appena uscito un volumetto su Saffo, un altro su Lorca, quindi è davvero una bella idea. Quando Antonio Ladieri ha lanciato questa collana, poi molti hanno detto, ah sì è vero, in effetti è una cosa a cui avevo pensato, ecco, finalmente esiste. E tra l'altro ieri guardavo che in quarta di copertina c'è scritto che tra le varie cose è una collana per collezionisti di varianti. Adesso lo vediamo proprio concretamente, attraverso questo viaggio, tra le diverse traduzioni, vediamo che cosa significa concretamente. Allora, il vato libro è forse il più celebre componimento di Rimbaud. Paul Verlaine lo definisce il suo preferito. Sappiamo che Verlaine è una figura chiave nella vita e nell'opera di Rimbaud, perché lo introduce negli ambienti letterari parigini, lo pubblica nei Poet Maudit, ne diventa l'amante, gli spara in un ginocchio a Bruxelles e per questo finisce in prigione. Quindi terremo comunque in una qualche considerazione il fatto che proprio Verlaine lo considerasse tra i suoi componimenti preferiti. E Rimbaud invece dal canto suo sembra averlo scritto soprattutto per far colpo sull'agente di Parigi, Légion de Paris, come riporta il suo amico Ernest Delahaye. Non c'è una fonte scritta, lui dice che Rimbaud gli aveva detto questo. Ed è per noi oggi piuttosto allettante questa cornice interpretativa. Cioè Rimbaud viene dalla provincia ardennese, quindi il suo andare a Parigi è senza dubbio anche un viaggio alla conquista della città. E quindi questo componimento doveva scioccare quell'ambiente che lui sostanzialmente voleva conquistare. Dalla provincia alla città. Rimbaud scrive questo componimento a 17 anni, oppure a quasi 17 anni, perché non conosciamo il mese esatto. La poesia non è datata, quindi non possiamo saperlo con certezza. Comunque siamo lì e ricordo naturalmente che tutta l'opera poetica in versi e in prosa finisce quando il poeta ha circa 21 anni. Quindi dopo questo momento non scriverà più nulla di poetico, ma abbiamo di suo pugno soltanto lettere oppure documenti di altra natura. La cosa davvero affascinante per me, e infatti ho iniziato la mia introduzione così, è che quando scrive il Bato Iwa, che possiamo senza dubbio definire un poema della mer, riprendendo un verso della poesia stessa, Rimbaud non ha ancora mai visto il mare. Quindi il mare che descrive è frutto di un immaginario per lo più letterario, anche un po' di un immaginario costituito su delle illustrazioni che lui può aver visto, oltre naturalmente al fatto che è il frutto del suo personalissimo immaginario di poeta geniale e visionario. Anche se come vedremo, come vi vorrei mostrare, accanto al genio visionario poi ci sono anche delle immagini quasi un po' bambinesche. È comunque un adolescente, Rimbaud, per quanto geniale. E per quanto riguarda il mare, che lui non conosce, conosce i fiumi, quindi questo mare appunto è un po' lo spazio del sogno, per lui il mare è un'ossessione già a dieci anni, come si vede ad esempio in questo disegno intitolato Navigation, che vado a mostrarvi. Eccolo qui. Questo è un disegno che lui ha fatto a dieci anni, che tra parentesi mi sarebbe molto piaciuto possedere, ma è stato battuto all'asta per oltre 100.000 euro alcuni mesi fa. Ed è interessante, non soltanto perché ci mostra appunto questa attenzione, in realtà, come vedete, sono ritratte due persone a bordo di una barca in acque tempestose, mentre una delle due invoca aiuto. Può sembrare strano che questa immagine sostanzialmente che rinvia al pericolo sia contenuta in una serie dal titolo Les plaisirs du jeune âge. Quindi, tutto sommato, rinvia al piacere, al piacere dell'infanzia, della giovanità. Come si suggerisce Pierre Brunel, probabilmente il piacere in questione è il brivido dell'avventura, che sicuramente Rombo inseguiva. Quindi è per questo che comunque anche questo disegno apparentemente, che ritrae una situazione apparentemente di pericolo, è classificato come qualcosa che dà piacere. Quindi era proprio questa avventura che naturalmente lui ricercava. E per il resto, ha citato, i riferimenti letterari sono vasti, sono numerosi. Olivier Bivore, nella curatela al volume Marsilio, dice che a un certo punto bisogna anche un po' lasciarli da parte, tutti questi riferimenti. Però io stiamo facendo lezioni, quindi vi do comunque qualche indicazione. Allora, per esempio, Gilles Verne, Edgar Allan Poe, Gautier, Coleridge, sono alcuni degli autori che solitamente vengono citati come fonti di ispirazione. Ma oltre loro, anche e soprattutto, Verlaine, Mallarmé e Baudelaire. Allora, questi tre autori, questi tre poeti, avevano già proposto una identificazione fra l'imbarcazione e il poeta, senza arrivare però a fonderli, come vedremo, che farà Rimbaud, che elimina il termine di paragone, quindi la barca è io, io, le bateau. Quindi, per esempio, in Langois, Verlaine scrive Allora, Bric è una piccola nave, un tipo di veliero, e quindi vediamo che lui dice alla sua anima come un Bric perdue. In Brise Marine, Mallarmé dice Stimer, di nuovo, è un battello a vapore e questa sua immagine significa Io partirò come un Stimer, però sappiamo benissimo che all'inizio di Brise Marine aveva detto, aveva parlato della sua carne, quindi di nuovo è una similitudine, non un'identificazione completa. E poi l'altro componimento che viene, insomma, sempre annoverato tra le source del bateau-ivre è il voyage di Baudelaire, perché c'è questa domanda, a un certo punto, et ton'on voyageur a dit, qu'avez-vous vu? E a quanto pare, quello di Rimbaud sarebbe in qualche sorta una risposta a questo quesito posto da Baudelaire. Rimbaud, però, in maniera radicalmente diversa, innovatrice rispetto ai testi precedenti, nel descrivere ciò che è visto, si fonde con l'immagine scelta, quindi scartando qualsiasi ipotesi di similitudine. Quindi il poeta è il battello ebro. E infatti c'è quest'io insistentemente ripetuto, rimendicato, che secondo me va sicuramente conservato, invece vedremo che in alcuni casi una di queste formule nelle traduzioni viene meno. Questo io, così rimendicato, è il perno intorno al quale ruota questa giostra di visioni così particolare, questa giostra che trascina il lettore senza trascurare nessuno dei cinque sensi. Quindi c'è la vista, che naturalmente è presente, il battello vede floride incredibili, ghiacciai, flutti perlace, i soli, accelli di braccia, arcipelaghi siderali e via dicendo. C'è l'udito con questi scrosci d'acqua continui, le maree che sciabordavano furiose, c'è il gusto più dolce che ai bambini la polpa da spremele, il tatto, la verde acqua penetrao il mio scafoligno, l'olfatto quando si parla dei profumi neri a proposito dei serpenti e via dicendo. Quindi l'esperienza sensoriale è alla base, lo sappiamo, della ricerca estetica di Rombaud, ed è attraverso il lungo dérèglement de tous les sens evocato nella famosa lettera a Paul Demigny del 71, il 15 maggio del 71, che il poeta mira a farsi leggente. Quindi questa lettera è stata scritta pochi mesi prima di comporre il bateau, o meglio il bateau è stato scritto pochi mesi dopo questa lettera. Quindi il poeta sente di stare assistendo allo sbocciare del proprio pensiero, gli sembra di avere finalmente intrapreso il percorso che lo porterà all'ignoto, che è l'enconnu, è quello che lui cerca. Se dopo rimane il tempo, vi dico qualcosa a proposito della formula sulla modernità, il poeta absolument moderne, che è stata presa come una specie di bandiera della modernità. In realtà quella frase non significa ciò che spesso si pensi che significhi. quello che lui ricercava non era la modernità, ma era l'ignoto. Cioè quello che noi oggi chiameremo modernità era quello che lui chiamava l'ignoto. E quindi il bateau appare insomma come il prodotto di queste visioni che lui auspicava. Brevemente, come si struttura a questo viaggio stupefacente di allucinazioni, di cataclismi. Nelle prime cinque quartine il battello ebro scende lungo i fiumi, ormai sciolto da qualsiasi ormeggio, e corre per dieci notti verso la poesia del mare, la poesia del mare infusa da astri e lattescente. Nelle successive dodici il poeta racconta le straordinarie avventure che l'incontro con il mare produce. Quindi lui che non ha mai visto il mare immagina le viatane, i cateratte sugli abissi, pesci canterini e via dicendo. E poi nelle ultime otto strofe si configura la scena all'indomani dell'uragano. Quindi il finale del componimento ha qualcosa di ineluttabile. Vedremo che c'è un verso in particolare che ci sono vari versi che pongono dei problemi interpretativi, ma un verso verso la fine è particolare e ci fermeremo a vedere anche un po' come i traduttori lo hanno letto. Quindi il battello, dopo aver conosciuto l'immensa gioia di essere libero, ha un moto di nostalgia per la sicurezza che sembra ormai aver perduto. Ci sono tuttora degli abissi esegetici notevoli. In un dettagliato articolo del 2006, Steve Murphy mette in rilievo quattro livelli allegorici del testo. Cioè il battuivra sarebbe un'allegoria delle tappe della vita, l'allegoria dell'ebbrezza in senso proprio, ossia degli effetti provocati dalle droghe, quindi l'ebbrezza delle droghe più che dell'alcol, le droghe considerate dal poeta come uno strumento privilegiato d'accesso all'ignoto, d'accesso appunto a questo incogni. Sarebbe un'allegoria del destino del veggente e quindi della creazione poetica e questo per Olivier Bivaud è appunto il livello principale, il livello allegorico principale. E poi per alcuni sarebbe anche un'allegoria politica dell'azione collettiva della Comune di Parigi perché la poesia è stata scritta pochi mesi dopo la Sommaine Saint-Glant del maggio 1871 che poi pose fine all'insurrezione. In realtà Honbo, secondo me, non soltanto secondo me, è un poeta che comunque resiste molto a interpretazioni troppo marcate. Ci sono tantissimi versi, allora innanzitutto ci sono tantissimi versi che restano abbastanza impenetrabili, quindi ne diamo delle letture, però non ci sono dei significati chiari, a volte ci sono degli elementi che compaiono nelle poesie. Nella mia nota di traduzione al volo di Marsilio io l'ho anche scritto, cioè ci sono degli elementi a volte che compaiono e noi veramente non sappiamo a che cosa lui stesse pensando. Ci ho tenuto molto naturalmente a scrivere questa nota di traduzione per Marsilio che è un paratesto fondamentale in cui appunto, come dicevo prima, si può dare un minimo il senso di un percorso compiuto al di là di quello che poi è il prodotto finito. Quindi tra i tanti modi possibili che abbiamo per approcciare l'opera di Honbo, una via d'accesso interessante e poco battuta è sicuramente l'esplorazione delle traduzioni italiane. E quindi adesso vengo a noi. Esistono oltre 30 traduzioni ufficiali del Bato Iva. Sono tantissime. Che cosa intendo per traduzioni ufficiali? Intendo delle traduzioni edite in volumi di case editrici che hanno una regolare una regolare produzione perché naturalmente se poi apriamo il web di Bato Iva ne troviamo quanti ne vogliamo di persone che si sono cimentate nella traduzione. Magari sono poeti, aspiranti poeti, aspiranti traduttori e via dicendo. A me io ho lavorato anche sul pastiche e mi è capitato qualcosa di molto singolare. cioè a un certo punto ho trovato in rete una poesia scritta in francese Le Veilleur di Rimbaud e in quel momento stavo lavorando a un articolo appunto sui pastiche e Le Veilleur è un poema che Rimbaud ha scritto ma è andato perduto ce lo dice già Verlaine quindi questa poesia non esiste più. Quella che io leggevo in rete l'ho battezzata così era a tutti gli effetti un fake poem cioè un poema una poesia che non esiste. Qualcuno deve aver saputo che Le Veilleur era stato un titolo di Rimbaud e ha scritto al posto di Rimbaud questa poesia quindi era un pastiche ma era era stato diffuso come una vera poesia di Rimbaud quindi in rete appunto si trova di tutto quindi quando parlo di in questo caso era anche divertente perché era un segno dal mio punto di vista di quanto l'attività del pastiche sia tuttora comunque abbastanza vivace nel contesto francese. Comunque quindi 30 traduzioni ufficiali io le ho riopertoriate tramite questo questa banca dati che forse conoscete già che si chiama Tralit altrimenti ve la ve la segnalo è un portale dell'Università di Padova Tralit scritto con la Y e ci sono appunto è ancora in fieri ma insomma ci sono raccolti dati sulle traduzioni poetiche dal francese all'italiano e quindi datate eccetera la prima traduzione del Batoir appare nel 1923 e l'ultima 2019 è la mia quindi davvero quasi un secolo in cui il crépuscule embaumé della penultima strofa si trasforma di volta in volta in crepuscolo balsamico aulente sera tramonto odoroso quindi vi rendete conto che il percorso tra le traduzioni prodotte nell'arco di 93 anni non può che essere anche un percorso nella storia letteraria della cultura della cultura ricevente lo insegnava già Franco Fortini nelle sue belle lezioni sulla traduzione e diceva appunto che per esempio un viaggio tra le traduzioni di Baudelaire in Italia è naturalmente un viaggio tra le poetiche anche italiane allora io mi sono occupata già in altri casi di ovviamente di analizzare più versioni più traduzioni di uno stesso testo questa però è stata la prima volta in cui di testi ne avevo addirittura dieci e per giunta è un componimento piuttosto lungo 25 quartini a rima alternata quindi esattamente 100 versi e quindi mi sono concessa un capriccio che avevo da tempo e che adesso vi faccio vedere è questo qui allora lo vedete in piccolo però insomma sono andata in copisteria e ho stampato questo file che è una specie di poster di più di un metro con il testo in francese e qui avevo messo simpaticamente Ramb che è il soprannome con cui Verlaine chiamava Rambu e poi in ordine cronologico tutte le versioni compresa compresa la mia Premetto che io sono molto interessata anche alla questione della fruizione della traduzione col testo a fronte naturalmente da parte di chi conosca entrambe le lingue piuttosto che leggere un testo e poi l'altro come fossero due testi separati almeno in poesia tenerli insieme sfruttando altri supporti ad esempio io scrivo su un blog letterario che si chiama Nazione Indiana dove anni fa ho proposto una traduzione di Robert Desnons con un audio del testo francese recitato che si poteva ascoltare mentre si leggeva la traduzione fra l'altro si trattava di una poesia che ha ispirato anche un brano musicale unicamente strumentale quindi in effetti si poteva ascoltare questo brano in sottofondo con la poesia recitata in francese e leggendo la traduzione per creare una specie di sincronia tra le fruizioni del testo di partenza e del testo d'arrivo per quanto mi riguarda a mio avviso sono esperimenti stimolanti che vanno comunque nell'ottica di valorizzare l'esperienza di lettura di una traduzione che diventa quindi una lettura arricchita non mettiamo in discussione che c'è un'autorealità da un lato e una autorealità derivata dall'altro lato cioè la traduzione questa è l'espressione di Lawrence Venuti ma cerchiamo anche di divertirci un po' se vogliamo cioè di trovare nuove modalità di lettura e questa tabella che vedete mi ha permesso una ulteriore fruizione cioè ho potuto spostarmi da una strofa all'altra da un termine all'altro in maniera ballerina magari leggere di fila nuove traduzioni di uno stesso verso senza contare naturalmente queste traduzioni ma adesso lo dirò hanno anche delle forme metriche diverse senza contare che come forse no in realtà non l'ho riuscita a leggere ma c'è un illustre intruso in questa traduzione cioè ho inserito anche la traduzione di Beckett in inglese e quindi ogni tanto era interessante a proposito di uno specifico termine chiedersi vediamo cosa ha messo Beckett in questo caso ora naturalmente non potremo analizzare l'intera poesia quindi vi propongo una panoramica sulle varie traduzioni e mi soffermerò su alcuni elementi in particolare quindi chiudo questo e ritorno sul powerpoint vero? ok dunque le traduzioni analizzate ecco qui le leggete tutte sono queste dunque che cosa come come ho selezionato tra le 30 proprio queste dunque ci ho tenuto sicuramente a prendere quella di Deciocinti che era la primissima che come vedremo è in prosa Beckett l'ho messo perché mi sembrava davvero interessante comunque proporre proporre la sua versione che comunque ovviamente in Francia tutti ricordano che c'è una traduzione del Bato Iva di Beckett in Italia magari un po' meno quella di Mario Muner l'ho messa perché è in in decasillabi adesso ci torno e ci soffermeremo un pochino quando io ho iniziato a tradurre Verlaine scusate quando ho iniziato a tradurre Rombaud parlandone con amici traduttori qualcuno mi ha detto ah bello devi tradurre in decasillabi perché l'alessandrino che è il verso ovviamente royal della traduzione francese doveva essere tradotto con il corrispettivo lì verso d'oro se vogliamo della traduzione della tradizione italiana è un'impresa che si rivela un'utopia secondo me e infatti oggi ve lo ve lo mostrerò poi ho scelto tre traduzioni delle opere complete più prestigiose quindi Margoni per Feltrinelli Bona per Reinaudi Grange Fiori che è il Meridiano Mondadori ho scelto Dario Bellezza che è un poeta cioè che ha un'attività proprio di poeta molto nota e Arrighi e Quattrone che sono due più recenti e quindi ho voluto mettere non volevo lasciare uno scarto troppo ampio tra la mia traduzione e l'ultima e quindi Arrighi e Quattrone sono comunque abbastanza recenti avevo considerato di prendere per esempio la traduzione di Giovanna Bemporad che fa una poetessa che fa una scelta particolare traduce utilizzando delle strofe di cinque versi quindi un'operazione abbastanza complessa poi però ho deciso di lasciarla da parte diciamo in generale che la storia di Rombaud in Italia inizia nel 1895 quando il poeta ligure Ceccardo Roccatagliata Ceccardi inserisce in un suo volume di liriche la traduzione di due componimenti rambaldiani che sono le Cherches de Pou e Tête de Fon bisognerà però aspettare circa trent'anni per leggere la prima volta il Bateau Yves in italiano ed è interessante che la prima versione sia in forma di prosa perché il primo approdo in italiano è il Bateau Yves avviene neutralizzando la contrente del verso il che consente naturalmente al traduttore di seguire molto da vicino il percorso del battello quindi nonostante alcune imprecisioni la versione di Cinti che è il primo assaggio per il lettore italiano restituisce quasi intatta la potenza visionaria del testo di partenza sciogliendo metro e rime in una prosa poetica che poi non è così lontana da quella della saison non faire e soprattutto conserva tutte le immagini adesso vi mostrerò come ovviamente il vincolo metrico o a volte anche rimico va a intaccare necessariamente le immagini ieri ho sentito un incontro con Valerio Magrelli che invece negli ultimi anni per ora la causa delle traduzioni in rima ecco io l'ascoltate oggi dirò esattamente spero esattamente una posizione diversa perché nel caso di Rombaud in particolare mi sembra fondamentale è un poeta visionario quindi le immagini vanno assumono per me un rilievo importantissimo e quindi mi sembra poi davvero veramente mi sembra che poi si vada a intaccare troppo la poesia nel momento in cui l'immagine viene viene rovinata comunque lo vedremo poco a poco quindi Decio Cinti non ve lo mostro ma appunto è una versione in prosa tra l'altro lui ha tradotto in prosa anche altri suoi componimenti in un caso c'era una copertina bellissima che in effetti non avrei potuto mostrarvi ma adesso non ce l'ho pronta comunque di tutt'altra fattura invece è il Battello Ebro di Mario Muner che è stata premiata al concorso per il premio di versione poetica della 19esima Biennale di Venezia quindi siamo nel 1935 e appunto lui per rendere l'Alessandrino adotta l'Indecasilabo che poi è una tentazione forte per chi si accinga a tradurre dal francese all'italiano ma come vi dicevo è veramente utopistico allora è chiaro che un po' come a proposito della rima e il discorso che faceva ieri Magrelli era che comunque la rima quando c'è aggiunge veramente qualcosa siamo d'accordissimo quando c'è è più bello in rima il problema è che poi bisogna tradurre un intero corpus seguendo un criterio che sia che sia sempre lo stesso Rambo non ha scritto tutto in rima ma ha scritto parecchio comunque in rima e quindi bisogna in qualche modo nel momento in cui si traduce un'opera completa scegliere un criterio dare prova di un progetto coerente allora vediamo la prima strofa in Indecasilabi così così la vedete vero ok ecco scusate io cerco un attimo di un attimo soltanto oh eccoci come non c'è dubbio sono versi bellissimi dal mio punto di vista funzionano l'indecasilabo in questo in questo caso tiene perfettamente a una scelta che regala grandi soddisfazioni però appunto un caso è tradurre una strofa e un altro caso è andare avanti per 25 e infatti già alla strofa numero 4 sorge qualche problema la tempetta benì mesi velli maritimi più legger che un bouchon j'ai danse sulle flotte con appelle rouleurs eternelles de victime di nuit sans regretter le gnie des falots salutoi mi risvegli la tempesta danzai leggero sughero sui flutti là ov'altri dice eternamente lutti non piansi a notte imbambolati lumi allora qui vi faccio notare più di una cosa allora al verso 2 queste immagini del tappo sulla quale ritornerò come vedete è una di quelle immagini piuttosto semplici sembra quasi un disegno il battello che danza sulle onde come un tappo che quindi galleggia verso 2 quindi questo immaginario se vogliamo ancora un po' infantile al verso 3 c'è un immaginario pazzesco del genio di uno dei geni della poesia moderna quindi queste onde questi flutti vengono chiamati rouleuse eternelle de victime quindi qualcosa che avvolge che trascina o che avvolge in eterno le vittime quindi dei flutti sostanzialmente tra cui si muore delle onde tra cui si muore in italiano o valtri dice eternamente lutti diciamo che è talmente ellittico da sfiorare l'incomprensibilità laddove appunto avevamo un'immagine possente nel testo francese poi nel verso 4 di questa strofa sono scomparse le dieci notti e quindi vedete che per tenere l'indica sillabo tutto si fa molto ellittico condensato laddove appunto questa poesia al di là delle problematiche magari di interpretazione tutta la sua bellezza sta appunto in questo tripudio di immagini ora Muner è ben consapevole della sua operazione di riscrittura infatti nella nota di traduzione spiega di aver tradotto il poeta laddove non riusciva a tradurre la lettera e di aver scelto l'indica sillabo perché a suo avviso più adatto ve lo cito vi cito quello che lui scrive a rendere la turbinosa assillante e insieme sintetica storia dello sconvolgente battello ma che appunto perché più breve presentava una terribile difficoltà a contenere tutta la materia di cui è ricco l'originale francese ed è proprio questo uno dei problemi secondo me quindi c'è anche proprio un problema di lunghezza e quindi diventa poi faticoso inserire in un'indica sillabo tutto quanto quello che Hombot dice nel testo francese comunque non è nemmeno secondo me solo una questione di perdite semantiche perché talvolta l'indica sillabo trascina il testo nel vortice della tradizione italiana lasciando poco dell'impeto rambaldiano e finendo con il rievocare semmai delle sonorità forse io ho detto gozzaniane ad esempio in una delle ultime strofe che vi leggo non ho non c'è il powerpoint ve la leggo soltanto in italiano io che dei gorghi orrendi innamorazzi sentivo a poche leghe il sussultore di blu in mobilità gran filatore piango l'Europa e i suoi difesi spiazzi ecco io da un punto di vista proprio di percezione faccio molta fatica a ritrovare Hombot in questi in questi versi in questi indica sillabi e deve essere forse per per queste difficoltà che pochi altri compiranno poi la medesima scelta metrica sono sono difficoltà che poi vanno a generare forse delle delle perdite eccessive prima di andare avanti però con le altre traduzioni mi fermo un attimo su questi Hul allora quindi di ruller trascinare portar via avvolgere lui certo lo ha sostantivato i rouleurs che va bene sono anche degli operai ma lui in questo caso vedete vi ho messo proprio il primo significato di rouleurs per il trésor ce qui roule emporte qualche chose e poi vi cita come secondo esempio proprio il bateau proprio il verso del bateau vi ho messo un po' le soluzioni allora Bona scrive arrotini grangefiori avvolgitori bellezza involucri arrighi rotolatori questi rouleurs eternels di vittima io e non soltanto io ho ho eliminato il sostantivo e l'ho reso un verbo e ho scritto che dicono avvolgere le vittime in eterno che sarebbe avvolgere oppure trascinare io non ho messo ho messo avvolgere e non trascinare perché comunque rouleur essendo un sostantivo cioè qualcuno qualcosa chi roule mi fa un po' pensare a un accenno di personificazione quindi questo avvolgere il verbo avvolgere mi dava un po' questa sensazione rispetto a trascinare trascinare sarebbe stato più neutro che le onde trascinino dei corpi è qualcosa di più semplice invece qui mi sembrava che ci fosse comunque un piccolo eca rispetto alla norma e quindi per per conservarlo ho scelto il verbo avvolgere che come vedete per esempio è anche stato comunque un po' la pista di grange e fiori e quindi questo per darvi una panoramica su diverse soluzioni per esempio per questo termine vado avanti con la traduzione di Margoni nel 64 che firma una delle traduzioni più lette oggetto di innumerevoli ristampe quindi per Feltrinelli esce la prima edizione quasi integrale della delle opere di Rombaud a sua cura con testo fronte e apparato critico nelle liriche Margoni rinuncia in maniera sistematica alla rima e nel suo battello ebro adotta un doppio settenario Giampiero Bona invece che nella versione nella versione in Audi del 73 che poi sarà anche quella usata nell'edizione Playad e in Audi alterna al doppio settenario il verso di 13 sillabe così come fa anche Bruno Arrighi per Clueb nel 2014 il che consente a entrambi di conservare le rime Diana Grangefiori nel Meridiano quindi 1975 e poi Dario Bellezza nell'edizione Garzanti utilizzano una quartina diversi di misura variabile ed è la scelta che io stessa ho compiuto nella mia versione come vi dicevo naturalmente nel corso di questi anni ho proposto anche in convegni o in articoli altre analisi comparate di più traduzioni e in generale le versioni non in rima riescono naturalmente a conservare meglio non solo le incalzanti sequenze di immagini ma anche la struttura del componimento i ripetuti verbi come dicevo prima la prima persona del passato prossimo a inizio verso ad esempio di questi verbi che tessono il ritmo dell'avventura del battello sulle acque scompaiono oppure rientrano in anastrofi all'interno del verso nella versione di Bona vi faccio vedere per esempio qui come vedete per esempio nella seconda strofa il primo verso viene meno questo j'ai vu oppure je sais le soir qui diventa la sera ho conosciuto quindi c'è un'inversione tutti tutti accorgimenti che naturalmente lui deve operare necessariamente per creare le rime conosciuto creduto trombe colombe e via dicendo qui c'è qualcosa interessante infatti vi faccio notare due cose allora questa prendiamo innanzitutto questa strofa la seconda di queste tre diciamo innanzitutto che da un punto di vista sintattico ci sono due maniere di leggere questa strofa cioè questo può essere sia una preposizione sia un articolo possiamo sia leggere j'ai vu il soleil bas che illuminò dell'onfiggimento violetto quindi figgimento sarebbe un complemento oggetto in questo caso e poi j'ai vu l'efflore che rullò e che era parei a dei attori oppure possiamo leggere j'ai vu il soleil che illuminò par dell'onfiggimento violetto l'efflore rullò e che era parei a dei attori io ho seguito la prima interpretazione cioè per me le figgimento è un complemento oggetto di illuminé e anche tutti gli altri traduttori le altre traduzioni hanno seguito questa pista mentre bona come vedete no per bona questo è un complemento par dell'onfiggimento quindi già c'è una complicazione da questo punto di vista e poi bisogna un po' intenderci su che cosa sta dicendo Allora il sole è basso siamo al tramonto quindi questi figgiment sono l'azione di fissare qualcosa o lo stato di qualcosa che è figé probabilmente io mi spiego sono delle delle striature prodotte nel cielo dal sole al tramonto e contemporaneamente ci sono questi flot che rullano le frisson de voler perché queste onde siano parelle a des acteurs de drame trase antiques è tutto da discutere uno dei punti come vi dicevo prima veramente oscuri cioè possiamo fare delle congetture però non è chiarissimo perché questa immagine non è chiarissima quello che è sicuro è che questi fichemont non sono come gli attori come traduce Bona come gli attori sono le onde sono i flutti quindi qui sicuramente al di là delle due letture che vi ho mostrato c'è una lettura che non condivido da parte di Bona però mi fermo su questi fichemont che comunque è un termine complicato da tradurre allora coaguli grumi impegolamenti filamenti sono alcune delle soluzioni adottate nelle traduzioni che ho analizzato vi dico prima che io ho messo fissità quindi privilegiando la parte astratta mentre i fichemont sono comunque anche una secrezione se vogliamo qualcosa di bisognerebbe immaginare come delle secrezioni viola nelle queste striature nel cielo io ho privilegiato questo aspetto della piastratta della fissità che comunque dovrebbe rinviare a qualcosa di fisso di immobile nel cielo anche perché nello stessa poesia poco dopo ci sono le immobilité bleue e quindi mi è sembrato che le fissità viola bensì relazionassero con un'espressione come le immobilità blu diciamo subito che Rombaud adora pluralizzare nomi astratti e in aggiunta a questo e questo sarebbe il caso di Fichemont ci sono moltissimi casi in cui pluralizza i colori e quindi nella poesia all'accovacciato il sole attacca gialli di pasta sui vetri di carta in vocali la i è associata a porpore sputo di sangue riso di labbra belle in le mani di Jean-Marie compaiono delle mani piene di bianchi e di carmini quindi i colori proprio usati come quasi come degli oggetti come qualcosa di concreto usato al plurale e quindi devo dire chapeau a bona che ha messo i viola rappresi quindi per lui l'aggettivo violè lo ha trasformato in sostantivo i viola e Fichemont lo ha trasformato in un verbo e devo dire che questa è una buona soluzione forse la migliore questi viola rappresi che sono questo è veramente un caso in cui si crea il traduttore ricrea in una maniera assolutamente coerente con la poetica dell'autore cioè fa qualcosa che l'autore ha fatto molte altre volte altrove e quindi vi volevo segnalare questa questa soluzione e poi qui crevant invece è una annotazione meno rilevante ma questo crevant eclair i cieli più o meno qui sono squarciati più o meno tutti gli altri hanno hanno abbiamo messo che scoppiano in lampi eccetera è singolare che Deciocinti nel 23 ha scritto schiattano i cieli che schiattano in lampi schiattare che oggi è un verbo che usiamo per lo più in un registro familiare esattamente come crever oggi in francese si usa per lo più in un contesto familiare no je crève de fin je suis crevé eccetera ovviamente non lo era all'epoca probabilmente schiattare non era assolutamente familiare nel 23 però vi volevo segnalare questa scelta e anche questi riflessi che poi illuminano anche l'evoluzione linguistica su un aspetto diacronico poi per quanto riguarda la traduzione di Arrighi rispetto a Bona Arrighi riesce meglio a salvaguardare la struttura piuttosto lineare del verso francese nel quale poche sono le inversioni quindi in questo caso nel caso della traduzione di Arrighi il battello è meno vittima di quella tendenza deformata di quella tonnance deformante che Antoine Berman chiamava un oblissement che quindi equiverebbe in questo caso a una sorta di poetizzazione invece nella versione di Bona sono frequenti questi casi di poetizzazione mi rendo conto che in effetti non avevo letto quindi vi leggo un attimo queste tre strofe conosco i cieli in lampi squarciati e le trombe risacche e correnti la sera ho conosciuto l'alba esaltata come stirpe di colombe e a volte ho veduto ciò che l'uomo ha creduto il sole basso macchiato di mistici orrori che di lunghi viola rappresi come attori di drammi più antichi illuminava lontane onde rotollanti in sussulti di persiane sognai la verde notte di nevi abbagliate su occhi di mare lenti baci scalatori la circolazione di linfe inascoltate il giallo risveglio dei fosfori canori qui sono pochi in effetti di esempi di poetizzazione come per esempio questo la sera ho conosciuto ma in realtà se leggiamo tutta la poesia sono piuttosto frequenti faccio qualche considerazione proprio sulle scelte lessicali naturalmente saranno un pochino sommari quindi ho individuato alcuni casi allora diciamo che forse il primo rovello traduttivo compare al verso tre del bateau e quindi ritorno sulla prima strofa al verso due scusatemi quindi come tradurre in italiano quegli all'heure cioè gli addetti attrainare i battelli lungo i fiumi allora cinti bellezza e arrighi scelgono il termine bardotti che oggigiorno è riferito soltanto agli animali da Soma quindi il lezionario Treccani per esempio non menziona l'accezione di persona detta a tirare con la corda un'imbarcazione lungo l'argine che però è un'accezione invece proposta dal dizionario battaglia quindi oggi bardotti per Treccani almeno sono soprattutto gli animali da Soma invece se andiamo nel battaglia sono comunque anche le persone nel testo di Hombos sono naturalmente degli esseri umani di Al ora al di là delle differenze sull'asse diacronico come scrive Diana Grangefiori nella sua nota di traduzione e ve la cito l'ondosa sonorità di Allure non poteva venire sostituita da quella casalinga e pesante di Bardotti quindi è il motivo per il quale lei sceglie trainanti qualcuno come Muner sceglie guidatori Bona come altri prima adotta il termine alatori esistente nel linguaggio tecnico ed è la scelta stessa che io stessa ho compiuto nella mia versione perché non vi ho visto alcun inconveniente dal momento che Hombos non era affatto estraneo all'impiego di tecnicismi quindi ce ne sono vari nella sua opera quindi inoltre questa soluzione Allure consente di conservare buona parte della leggerezza e della sonorità del termine francese come vi dicevo questo questo lavoro su queste traduzioni questo confronto necessario ha inevitabilmente evidenziato la diversità rispetto ad altre traduzioni di alcune scelte lessicali che io ho compiuto e per esempio a proposito del del Bouchon della strofa 4 devo ammettere che io non ho proprio considerato l'ipotesi di non tradurre Bouchon con tappo è stato proprio automatico anche perché come vi dicevo questa immagine mi sembra un po' anche molto semplice il Bouchon che danse sulle flore e quindi è qualcosa su cui non mi sono interrogata e invece poi ho notato che nelle altre traduzioni diventa un sughero che come sappiamo non è solo il materiale ma anche l'oggetto un turacciolo che quindi è un termine sicuramente più datato adesso quindi diverse scelte anche per un termine così semplice come Bouchon la cosa particolare quando si studiano le tante traduzioni di poesia è vedere avere toccare veramente con mano quante diverse traduzioni possibili di uno stesso testo possiamo avere e proprio in poesia tra l'altro se traduciamo un determinato verso è quasi è quasi una specie di catena quindi se traduciamo un determinato verso in un modo probabilmente faremo una serie di scelte legate all'incipit e che quindi produrranno poi delle versioni completamente diverse l'una dall'altra altra scelta lessicale il poème de la mer della strofa numero 6 ve lo prendo eccolo qui allora il poème de la mer per tutti i traduttori è un poema e non una poesia io ho tradotto la poesia del mare perché il poema in italiano è un componimento specifico le poema in francese no e quindi ho messo poesia e non e non poema perché non ho sentito la necessità di dover precisare che fosse quel particolare tipo di di componimento poetico ancora a proposito qui va bene c'è questo questo devorant l'avevo messo in rosso perché anche qui c'è una doppia lettura possibile quindi chi è che divora le azure vera la barca oppure la poesia quindi anche qui si aprono delle interpretazioni diverse ma magari ci ritorno tra un attimo continuo sulla questione delle scelte lessicali a proposito dei vins bleu più dusco s'enfant la chair dei pommes suure l'eau verte penetra ma coche di sapone e delle tache di vins bleu e di vomissure me lava disperso in governaio e grappano allora io tradotto così più dolce che ai bambini la polpa da spremere la verde acqua penetrò il mio scafolino e dalle cazze di vinacci e vomito mi lavò sperdendo ancore e timone ora questi vins bleu si conosce la smodata passione di Homme per i colori i suoi accostamenti visionari il fatto che abbia dedicato una poesia alle voielle quindi in cui vede la nera le bianche eccetera probabilmente poi queste associazioni si è scoperto che erano forse frutto della copertina del suo abecedario di ragazzino però appunto conoscendo questa passione per i colori di Homme i traduttori si sono scatenati quindi è un fiorire di vini di volta in volta turchinicci azzurri azzurrastri ora in realtà i vin bleu indicavano nell'ottocento dei vini di scarsa qualità quindi io ho messo vinacci Margoni Margoni è l'unico tra le traduzioni tra i traduttori che ho analizzato a non spizzarrirsi fa una scelta molto neutra e traduce e dalle macchie rosse di vino e di vomito quindi probabilmente gli è sembrato strano che questi vini qui forse dovessero essere blu oppure ha voluto non ha precisato che si trattava di vini di scarsa qualità ma appunto ha evitato delle sfumature cromatiche particolari ora voglio anche dire che chi traduce oggi ha a disposizione degli strumenti che assolutamente non c'erano 30 40 e più anni fa quindi da questo punto di vista con le varie digitalizzazioni siamo molto avvantaggiati quindi con il litre ci si mette che è tra l'altro un libro exe online ci si mette 30 secondi a controllare una cosa del genere magari era molto più complicato quando bisognava andare in biblioteca e cercare manualmente su tanti dizionari oltre al fatto non soltanto per le non tanto ancora per le ricerche lessicali ma soprattutto per quello per tutto quello che riguarda l'interfessualità sicuramente l'operazione di traduzione oggi è comunque agevolata e ritorno quindi su quella su quel devorant quindi questo participio presente è stato oggetto di diverse interpretazioni chi è che divora l'esasio il battello cioè l'io lirico oppure il poema stesso allora tutte le traduzioni analizzate e anch'io seguiamo la prima opzione quindi è il battello che divora tranne Margoni e Arrighi che invece seguono l'altra interpretazione e mi avvio verso l'ultimo esempio che è quello che riguarda questo siamo nella terz'ultima strofa del battue e questo esempio riguarda questo verso così furioso e appassionato e al contempo così delicato come sottolinea Ducoffre qui Rimbaud reitera il suo voo resolu d'aller alla mer ma cette fois pour assombrer completamente allora la formulazione in realtà è volutamente neutra cioè intuiamo che lui vuole abbandonarsi al mare aperto che il battello vuole abbandonarsi al mare aperto ma lui non lo dice esplicitamente e secondo me non va troppo esplicitato allora a parte Muner e Grangefiori tutti hanno esplicitato il senso diciamo scissidea del verso che io scenda in mare cinti may I founder a founder Beckett e ma abbandoni al mare come vedete Muner non lo ha esplicitato che io vada in fondo al mare o minabissi in mare Margoni e Bona lo hanno esplicitato e ancora che io vada a infrangermi nel mare che io possa affondare e io affondo in mare bellezza Arrighi e Quattrone lo hanno esplicitato mentre Grangefiori mette ancora meno di Muner che io ritrovi il mare ritrovi quindi sicuramente lascia più letture aperte allora io ho scelto semplicemente che io vada nel mare una traduzione quasi letterale in cui tutto si gioca sull'interpretazione della preposizione nel che io vada nel mare può intendere sia che io appunto vada in mare aperto sia che io vada nel mare per perdermi e quindi è un po' un po' questa apertura che secondo me andava andava conservata e a me affascina sempre anche con appunto vedete tutto sommato in un frammento diverso così semplice o che j'ai alla mer non ci sono due traduzioni uguali su dieci quindi tutti hanno tradotto interpretato e letto in maniera diversa questa soluzione che io ho adottato mi è sembrata la soluzione migliore per accompagnare verso la sua incerta fine il battello ebro come vi dicevo prima anche sul finale della poesia comunque ci sono varie interpretazioni possibili e il compito del traduttore in questo caso è di cercare di conservare questa pluralità di possibilità e adesso qualcosa sul titolo possiamo stare certi che sia proprio un battello e non piuttosto una barca una nave un bastimento e sarà ebro oppure più precisamente ubriaco allora la questione del titolo è interessante io naturalmente non ho iniziato ho iniziato ho proceduto in ordine cronologico nella mia traduzione per Marsilio però naturalmente le poesie più famose ho iniziato a pensarci abbastanza presto e quindi mi attraeva molto l'idea di tradurre la barca ubriaca perché batu è il termine classico per l'imbarcazione così come lo è barca in italiano ivra come sappiamo come sapete è meno letterario in francese non è letterario tanto quanto ebro in italiano e quindi ci pensavo un po' poi mi sono resa conto che se avessi messo la barca ubriaco paradossalmente avrei dovuto accordare i participi al femminile ne sarebbe venuta fuori una versione gender forse del batu ivra poi ho accantonato tutta questa insomma questa deriva e mi sono resa conto che comunque nell'immaginario collettivo la barca nell'immaginario collettivo italiano la barca è la barchetta di legno una barca piccola non è una barca che trasporta merci in questo caso il battello è un'imbarcazione fluviale che trasporta merci lo scopriamo praticamente subito poi c'è comunque il richiamo fonico importante battu battello e comunque all'ilà di tutte queste considerazioni secondo me i motivi per legittimare il titolo che è stato adottato nel 90% dei casi non mancano cioè si tratta di una imbarcazione fluviale che trasporta merci l'aggettivo ebro è sì più letterario ma forse suggerisce meglio le possibilità metaforiche che pure non sono estranee al termine ubriaco visto che tutto sommato si può dire ubriaco d'amore ubriaco di stanchezza eccetera però all'ilà di tutto questo secondo me ci sono dei casi in cui la tradizione della traduzione si impone consacra un titolo nell'immaginario collettivo della cultura ricevente e quindi a meno che tale traduzione non contenga un vero e proprio errore non c'è ragione di modificarla sicuramente da parte di chi traduce c'è sempre un po' di narcisismo allora c'è la velletà di dire ah allora traduco in una maniera diversa rispetto a quello che hanno fatto gli altri però davvero in questo caso non avrei guadagnato niente credo dal mettere un qualsiasi altro titolo quindi va bene il battello ebro in realtà ci sarebbe ancora un po' di tempo all'interno del quale forse vi potrei dire fare giusto qualche considerazione sulla versione di Beckett naturalmente ho approcciato quella di Beckett in maniera diversa rispetto a quelle italiane cioè non sono andata a fare un'analisi puntuale lessicale e via dicendo ma più che altro anche attraverso degli studi critici altrui ho visto un po' quali sono le tre tendenze principali però non so se invece vogliamo Paolo dimmi tu come vuoi tu come vuoi tu del tempo se vuoi ce l'hai per dopo di che ti faremo domande ma se vuoi adesso ok dico giusto qualcosa allora a proposito di di questa di Beckett allora la cosa interessante a proposito di questa versione è che allora come sappiamo Beckett sceglie il francese perché si vuole liberare della propria lingua che padroneggia così perfettamente vuole andare verso una lingua che usata da lui sarà necessariamente più asciutta più secca scarnificata ed è quella lingua che lui vuole come strumento della propria produzione e quindi in questa in questa traduzione dal francese all'inglese sembra quasi che voglia esibire per contrasto la ricchezza della lingua inglese quindi è molto ricca questa traduzione di The Drunken Boat che lui fa quasi a voler dimostrare che invece il francese è più scarnificato non lo è per niente in realtà non lo è questa poesia però c'è questo questo desiderio di arricchire ulteriormente la sua versione inglese diciamo che la maggior parte delle sue scelte si possono ricondurre a tre tendenze principali che sono state individuate da uno studio critico che ho utilizzato e che sono la religiosità l'arricchimento appunto e l'esplicitazione cioè esattamente il contrario di ciò che Beckett ricercava e attribuiva alla lingua francese perché nella lingua francese cercava la samplicité e le non-di allora per quanto riguarda la prima tendenza la religiosità si nota e qui abbastanza facilmente un marcato carattere religioso nella scelta in alcune scelte traduttive per esempio la presquille che diventa sanctuary santuario oppure il verbo che diventa to solve quindi relativo anche alla salvezza biblica così come in alcuni versi in cui assolutamente non si parla di cantici o di benedizioni in Rombaud lui introduce cantical e blessed quindi vedete proprio delle iniezioni di lessico che ha una connotazione religiosa anche liturgica secondo Chiara Montini che ha studiato molto insomma l'opera e la lingua di Beckett tra gli obiettivi che l'autore intende raggiungere attraverso il ricorso alla lingua francese c'è anche quello di liberarsi dalla propria cultura religiosa e quindi anche qui sembra lo stesso lo stesso esperimento cioè va a rimpinzare il testo inglese di termini che hanno una connotazione religiosa proprio forse per dimostrare per contrasto che invece la lingua francese non o comunque questo testo francese non li prevedeva quindi la religiosità più marcata e ci ritorno anche tra un attimo poi c'è questa tendenza all'arricchimento quindi anche a ricorrere a termini rari o a soluzioni ricercate per esempio a un certo punto nella strofa 8 Rombo parla di scoloma crevoire quello ciò che l'uomo ha pensato pensò di vedere e Beckett introduce il termine fantasmagoria che sicuramente Rombo è un autore di fantasmagorie un utilizzatore di fantasmagorie però appunto in questo caso sicuramente è andato Beckett è andato ad arricchire ad aggiungere qualcosa tra l'altro potrei dire qualcosa in generale sulla traduzione del termine fantasmagorie ferie allora per fortuna siccome spesso si dice che il termine ferie che in realtà è polisemico in francese andrebbe tradotto con fantasmagoria io non sono d'accordo con questa soluzione per fortuna Rombo utilizza anche fantasmagorie e quindi per me la fantasmagoria italiana è soltanto la fantasmagorie e quindi mi sono sentita legittimata appunto a proporre altre traduzioni per ferie che a volte è magia in canti o anche nel senso poi teatrale che ha il termine ferie naturalmente nell'opera completa si cerca di fare una riflessione su termini che poi ricorrono più volte tornando a Beckett a un certo punto si parla dei mesi di luglio le giie nel termine nel testo di Rombo e sempre per dimostrarvi questo arricchimento questo show off da parte di Beckett se vogliamo c'è uno slancio di erudizione e lui traduce Sirius cioè la stella appartenente alla costellazione del cane maggiore che appare nei cieli di luglio e quindi vediamo come va a rendere più sofisticato anche a creare un riferimento sofisticato e poi c'è questa tendenza all'esplicitazione allora si notano vari esempi per esempio nella prima strofa addirittura viene menzionato persino lo strumento del rimorchio la prima strofa in cui parlavamo degli all'heure appare addirittura lo strumento del rimorchio cioè la traina oppure l'io che è rispetto agli equipaggi diventa quindi lo stato d'animo del battello rambaldiano si trasforma in qualcosa di concreto nel testo di Beckett cioè nel risultato delle azioni espresse nella prima strofa e qui questo è anche un esempio di più marcata religiosità perché in effetti il verbo to deliver ha delle sonorità liturgiche lo troviamo nel padre nostro nella versione inglese liberaci dal male è appunto but deliver us from evil quindi l'utilizzo di questo termine dimostra anche la prima tendenza alla marcata religiosità e poi c'è una una scelta singolare che è stata rilevata nella strofa 4 quando ci sono le denuide voyage le dieci notti di viaggio e Beckett mette nine nights quindi diventano nove notti probabilmente perché vuole creare la letterazione in I nine nights probabilmente io ho rilevato in più occasioni che dei traduttori e traduttrici di mestiere cioè e veramente molto bravi si confondono spesso sulle cifre quindi chi lo sa che non sia stato anche il caso di Beckett però molto più probabilmente era per ricreare questa alliterazione è comunque una scelta una scelta singolare io trovo di di cambiare una cifra in generale questo adesso lo dico visto che abbiamo ancora un pochino di tempo io ho fatto tutto un discorso che oggi ho tenuto da parte a proposito di quella che è stata la mia traduzione mi fa piacere dire giusto almeno due cose e cioè che chiaramente quando si parla di progetto di traduzione ho nominato la coerenza all'interno del progetto traduttivo allora il mio obiettivo è stato soprattutto quello di perseguire il ritmo l'ho spiegato appunto nella nota di traduzione l'ho detto poi anche in altre sedi il ritmo inteso nella nell'accezione di che riprende gli studi di Benveniste e quindi sostanzialmente volendo sintetizzare per lui è il ritmo è la forma soggettiva che l'autore dà al testo sulla base di una serie di scelte lessicali prosodiche e via dicendo quindi ho cercato di ragionare in questa direzione anche perché mi sembra comunque poi al di là di tutto una pista interessante da sfruttare proprio in traduzione quindi non soltanto da un punto di vista dell'analisi stilistica dell'autore ma anche una buona direzione per riflettere in una maniera comunque complessiva poi al testo da tradurre poi Torop ci ha insegnato che comunque c'è sempre una dominante che si impone sia nel testo sia nella traduzione cioè si sceglie come dire un criterio principale ecco dovendo dire il criterio del ritmo nella accezione di Meshonik mi sembra che possa dare parecchia soddisfazione ecco grazie è finita Ornella Tagliani per questo attraversamento in estensione in profondità nel testo del Bato Ivo attraverso l'analisi delle traduzioni attraverso la sua traduzione però ci ha mostrato come la traduzione sia un modo di entrare nel testo di prendere posizione sul testo l'altro giorno lunedì abbiamo avuto un incontro con dei traduttori delle rime di Dante in tedesco ed è intervenuto anche Claudio Giunta che ha fatto un grande commento delle rime di Dante dicendo in realtà il traduttore è il compito molto più difficile perché il commentatore può permettersi di fare un po' il forbetto dice si può fare così o si può fare cosa il traduttore no il traduttore deve trancher deve dire è così è un compito molto più difficile e devo dire come dire te la sei cavata benissimo lo dico in termini come dire così elementari perché a me la tua traduzione adesso non lo dico perché tu sei qui mi è piaciuta moltissimo per un motivo anche un po' personale siamo sempre molto affezionati alla prima lettura che facciamo di un testo io la prima lettura l'ho fatta in francese adolescente capendo quello che si poteva capire però mi è rimasto quel ritmo quella impressione ogni volta che leggevo una traduzione mi sentia un po' spostato da quello che avevo letto leggendo la tua mi sono ritrovato come dire un po' all'interno di questo solco che era stato aperto proprio così nel tempo e probabilmente meraviglia grazie no lo dico realmente e probabilmente hai dato tu la chiave proprio per questa scelta di privilegiare il ritmo perché è indubito che quando si legge il barlo d'ivoco si viene proprio come dire trasportati è un po' anche forse l'intento del poema di trasportare in questo in questo viaggio ma ecco io vorrei aprire la discussione avrei delle domande da farti vorrei come dire aprire la discussione prima agli altri del pubblico quindi chi vuole intervenire può aprire il microfono intervenire direttamente oppure manifestarsi nella chat intanto sì prego prego ah no no ti lascio era soltanto sì vorrei ringraziare Ornella davvero molto interessante sono contento che le pochissime studentesse presenti abbiano potuto seguire questa interessantissima sua presentazione la mia domanda è la seguente in che modo le traduzioni esistenti orientano le traduzioni future immagino che lei prima di iniziare a tradurre abbia letto visto studiato tutte le traduzioni già esistenti e come diceva lei si cerca sempre di trovare poi la soluzione che non è stata già trovata dagli altri allora in realtà sì io ho evitato di leggerle nel senso che il mio primo Hambo è stato da adolescente in versione con testo a fronte e la traduzione era di Margoni per fortuna quando poi sono arrivata a tradurre mi ero dimenticata di questa traduzione quindi ero libera da questo punto di vista e io non non ho assolutamente letto le traduzioni cioè che cosa ho fatto l'ho presa molto larga talmente larga che all'inizio non traducevo proprio nel senso che leggevo studi critici ho letto una biografia eccetera poi mi sono resa conto che potevo studiare quanto volevo ma a un certo punto dovevo metterci le mani e quindi mi sono detta che avevo del tempo l'opera era lunga quindi avrei capito come io potevo tradurre Rambo traducendo quindi mi sono detta inizio tanto poi potrò modificare mille volte e sulle soluzioni scartate adesso c'è il calo lo dico per le studentesse la genetica della traduzione per me è molto affascinante cioè vedere tutto quello veramente il processo quindi tutte le soluzioni che vengono scartate poi a posteriori io mi sono confrontata unicamente con la traduzione di Margoni quindi è stato sempre dopo aver tradotto magari andavo a vedere come aveva tradotto lui e una volta giocando io non non ho avuto il piacere di conoscere Ivos Margoni sono una grande ammiratrice della sua attività critica e quindi mi è venuto da pensare che se dovessi ho dovuto dedicare a qualcuno questo lavoro l'avrei dedicato a lui anche e soprattutto perché non sono mai d'accordo con lui ma davvero ho intessuto mentalmente una sorta di dialogo quindi di confronto con la sua traduzione tutte le altre le ho tenute molto da parte cioè soltanto nel caso io ho scritto un paio di articoli due o tre articoli in cui ho confrontato un'unica tra una o due poesie e quindi magari ho visto guardato quella di Bona però un lavoro come questo appunto io per fortuna a questo punto l'ho fatto solamente alla fine è stato veramente il momento ideale per me per farlo perché a quel punto avevo già tradotto tutto ero assolutamente serena e però avevo il lavoro di traduzione freschissimo quindi era molto mi sono veramente goduta questo confronto ci sono state delle scoperte posso dire visto che ci sono comunque degli studenti giovani che all'inizio quindi era il 2012 mi sono detta ma poi se la mia soluzione sarà uguale a quella di altre traduzioni come faccio? ecco per fortuna questo non succede mai era quello che dicevo prima soprattutto in poesia veramente non succede mai perché si dà una lettura e poi a seconda magari di come si traducono i primi versi la traduzione prende una direzione che molto probabilmente non sarà quella degli altri insomma quindi davvero se prendete questo libricino e guardate le varie traduzioni sono tutte comunque è sempre Rambo ma sono tutte molto molto diverse quindi veramente probabilmente una delle bellezze della traduzione è questa iper possibilità questa apertura grazie mille ne approfitto solo per chiederle ancora una curiosità lei scrive poesie e chi tra i dieci è poeta o scrive poesie allora no io non scrivo poesie quindi se qualcuno mi dice che per tradurre poesia bisogna essere poeti proprio sfodero una ecco abbiamo commentato il caso di Messonique quindi no no ma certo no sono tanti casi allora tra questi analizzati direi che chiaramente bellezza è insomma forse più famoso tutto sommato come poeta che come che come traduttore e poi di Lucefiori forse non ha scritto qualcosa sì direi forse anche degli ultimi due Arrighi e Quattrone hanno delle hanno mi sembra un po' di produzione poetica Ben Porad che però ha lasciato fuori era una una poetessa poi sicuramente allora con Conbon non sono andata in questa direzione però naturalmente poi ci sono tanti studi io per esempio a lezione parlo spesso di una della traduzione di che Bonfois ha fatto dell'infinito di Leopardi in cui è proprio è Bonfois cioè ha proprio modificato al di là del ritmo anche proprio l'interpretazione degli ultimi versi vedo che annuite quindi cose che avete già studiato però sicuramente bisogna poi stare un po' più attenti con con le traduzioni d'autore e vedere quanto la poetica personale influisce su su quella su quella della della traduzione anche se io mi pongo un po' in maniera critica rispetto a questa distinzione tra traduzione d'autore e traduzione non d'autore proprio perché dal mio punto di vista invece chi traduce è comunque una protagonista attore di questa autorialità derivata e quindi vorrei un po' evitare che ci fosse questa distinzione che poi porta sempre un po' a dire che sono migliori le traduzioni di poeti e di scrittori quindi diciamo che qui faccio un po' la militante su questo aspetto grazie mille grazie a te delle domande ci sono altre domande io dico una cosa a proposito quello che dicevi che bisogna il traduttore chi traduce deve decidere allora sempre Magrelli in questo incontro di ieri diceva io farei Ercole dell'Ercole al Bivio il patrono della traduzione perché è lui che deve decidere quale strada prendere effettivamente quando si fa io comunque oltre alla critica della traduzione mi sono o mi occupo un pochino talvolta di di critica tu cura letteraria e quando devi devi dare una tua interpretazione di un verso come critico naturalmente scegli quella che va a sostenere il tuo discorso il tuo impianto quindi da un certo punto di vista è più semplice invece il traduttore per sua natura si fa ovviamente moltissimi problemi per cercare di non stabilire qualcosa di troppo netto se nel testo di partenza non c'è si lascia appunto si vuole lasciare una una ambiguità devo essere onesta questo voler lasciare l'ambiguità in alcuni casi è complicato in altri casi forse semplifica anche un pochino la vita dipende quindi dipende anche da che lingua si traduce e allora con due lingue così vicine come il francese e l'italiano a volte si riesce magari più facilmente a seguire la lettera senza dare delle interpretazioni troppo nette se queste interpretazioni non c'erano nel testo di partenza volevo posso perfetto infatti mi sembrava dovuto aprire questo canale napoletano di comunicazione fra me e tornella che ho la fortuna di conoscere da tanto tempo e di apprezzare chiaramente ciao grazie c'ero anche anche se ufficialmente sono comparso dopo ma banalmente perché avevo perso il link di zoom ma ho cominciato a seguire su youtube e poi sono migrato qui meno male altrimenti parlando di Beckett avrei finito per andare in ansia è molto interessante quello che dici non volevo chiederti questo però l'idea di sanctuary è eccezionale perché lui chiaramente usa una parola adatta alla presenza appunto degli animali di cui sta parlando che il sanctuary è anche poi la riserva naturale in qualche modo però chiaramente ha questa radice a questa radice legata alla spiritualità no io ho una domanda che è un po' più una curiosità un po' pop in qualche modo visto che sono convinto anch'io insomma che è vero il traduttore è vero che deve compiere delle scelte però poi forse deve compiere delle scelte che sono più drastiche forse di quelle del critico letterario però in un certo modo insomma avendo a che fare con il linguaggio comunque anche le scelte del traduttore possono essere possono aprire nuove ambiguità possono aprire nuove nuove polisemie quindi non lo vedo per forza come una come una come una perdita insomma la retorica della perdita associata alla traduzione secondo me è un pochino da forse qualcosa di cui ci dobbiamo liberare però è comunque una presa prendere una direzione mi chiedevo in un certo senso se lavorare a questa collezione di dieci traduzioni sia stata in qualche modo una liberazione da questa da questa dannazione del dover del dover scegliere in qualche modo come se tutti fossi potuta sfogare poi per tutte le sia trattandolo da un punto di vista critico sia trattandolo anche da un punto di vista delle realizzazioni della traduzione dici se mi ha dato un senso di onnipotenza quindi questo è tutto quello che ti ha dato un po' come l'idra a dieci teste che è riuscita a parlare in dieci modi della stessa della stessa della stessa poesia e poi in realtà la domanda vera e propria è un pochino più forse complessa non saprei onestamente come rispondere tu dici giustamente che dal primo verso poi alla fine della poesia si sviluppa in un altro modo è impossibile in qualche modo trovare soluzioni uguali agli altri però come dire secondo te c'è qualcosa di eticamente scorretto nel rubare tra virgolette le soluzioni a quelli che sono poi dei nostri collaboratori nella traduzione cioè Massimiliano Morini ne parla come di covert collaborazione nascosta diciamo quella dei traduttori precedenti è un problema etico secondo te questo guarda forse probabilmente no se parto per esempio dall'idea di assolutamente discutibile e ormai cestinata di Berman per il quale la prima traduzione non può mai essere buona ma bisogna sempre ritradurre ovviamente su questo elemento di Berman non sono d'accordo sono sicura che non sei d'accordo neanche tu non è più d'accordo nessuno praticamente però quello che lui vuol dire in quel caso è che quindi bisogna mettere a frutto quella che è stata l'esperienza del primo traduttore è in questa maniera che poi la seconda versione la terza eccetera miglioreranno e quindi se seguiamo questa linea effettivamente ci si potrebbe anche appropriare di di una soluzione di una soluzione altrui non lo so è una domanda complicata nel senso che ovviamente si fa si cerca di dare una propria versione e per quanto mi riguarda la si dà prima senza guardare le altre poi che cosa succede magari se ovviamente può succedere che una piccola immagine sia stata già adottata e quindi lì non ci si pone il problema oddio forse quando nel caso di un classico come questo in cui le traduzioni sono moltissime per cui se ci mettiamo a vedere probabilmente dei versi ci saranno delle traduzioni comunque più o meno simili prima sono stata un po' iperbolica ovviamente complessivamente le versioni saranno molto diverse lo si vede da queste dieci forse in quel caso si dipende secondo me anche da quanto quella soluzione è frutto della poetica di chi traduce da quanto si distacca dal testo quanto è particolare eccetera se è semplicemente una piccola miglioria rispetto rispetto alla scelta di chi sta traduzendo in quel momento ok se si tratta veramente di una creazione a quel punto se diciamo che il traduttore comunque fa una scrittura di traduzione e allora andiamo a rispettarla non 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 a saccheggiarla direi penso che risponderei così come no è che una cosa la quale ho pensato soprattutto adesso mentre parlavi tu per questo ci sto ancora riflettendo molto molto anch'io poi appunto essendo mi trovato in situazioni simili anche mi sono mi sono posto il problema ed è quasi ironico come da traduttori si cerchi di essere il più possibile originale mentre la letteratura di prima la letteratura creativa può essere citazionista la traduzione può esserlo molto di meno pur essendo in fin dei conti una forma di citazione però la traduzione può essere citazionista nella misura in cui inserisci qualche piccolo richiamo che magari è coerente con il tutto e che però sta introducendo in qualche modo ex novo come no però facciamo fatica a giustificarlo insomma è quasi stiamo sempre a giustificarci però perlomeno io perciò adesso prima parlavo del paratesto del supporto del paratesto delle note almeno lì uno ha la possibilità di dare conto di quello che ha fatto e secondo me se chi traduce alla possibilità di dar conto di quello che ha fatto magari si concede anche un po' in più poi dipende perché poi c'è anche una timidezza atavica di chi traduce sì un po' una sorta di complesso del traduttore mentre invece più come dire si riacquista questa autorialità seppure derivata e più come dire è possibile anche procedere a questo citazionismo ove abbia un senso ovviamente almeno mi mi sembra sia con l'esperienza che con la riflessione di demolire questo complesso in qualche modo grazie grazie a te Antonio piacere di vederti c'è Giulio che ha tolto il silenziatore al microfono prego intanto grazie per questo bell'intervento io avevo un'osservazione che è più che altro un apprezzamento per una soluzione specifica che indicava prima è una domanda l'osservazione riguarda la quinta strofa quando si parlava dei vinacci che secondo me proprio nel momento in cui lei leggeva mi richiamava il color vinaccia quindi ha creato secondo me due percorsi un percorso polisemico che pare a un vino potente e comunque al colore quindi forse come appunto si diceva poco fa la traduzione in questo caso ha creato una possibilità di lettura che è parallela ma non identica a quella del testo originale quindi complimenti perché era secondo me un'ottima soluzione nonostante le differenze e poi una domanda molto semplice cioè se ha avuto modo di discutere la questione del titolo con l'editore oppure tutta quella riflessione sui pro e contro di un eventuale nuovo titolo è rimasta cioè ha deciso prima ancora di proporla di non andare insomma con una nuova soluzione grazie allora sulla questione del titolo no con l'editore no il mio confronto dal punto di vista del prodotto editoriale è stato con il curatore quindi con Olivier Bivot con il quale abbiamo fatto tre giorni di revisione però l'opera è molto vasta quindi comunque tre giorni in realtà sono molto pochi ci sarebbe servita ce ne sarebbero serviti almeno almeno dieci sul sul titolo in realtà sono già in fase finale comunque le avevo scartate per conto mio le altre possibili soluzioni l'ho l'ho nominata questa questa soluzione con cioè con Olivier Bivot gli devo aver posto un minimo dubbio ma non sulla barca ubriaca probabilmente sul battello ebro ubriaco e no e lui era dell'avviso di non modificare appunto un titolo già già consacrato ma in generale lui poi è anche francofono studia da tanti anni quindi era molto nell'ottica di preservare quanto più possibile infatti poi ci sono state varie varie discussioni varie discussioni non discussioni però insomma vari confronti divertenti con lui a proposito dell'aggiungere il nuovo livello di lettura al testo che un po' era anche la domanda di Antonio Bivot ho fatto anche un esempio nelle note nella nota di traduzione c'è un caso in cui si parla delle trombe in Rimbaud che sono le trombe d'aria sono i fenomeni atmosferici non è precisato se sia una tromba d'aria o d'acqua io non ho voluto precisarlo e quindi ho messo trombe e mi sono anche un po' rallegrata del fatto che insomma ci sia l'omonimia in italiano con lo strumento musicale perché è una scena in cui anche la sfera acustica è molto importante e quindi dovendo dire ho aggiunto qualcosina senza senza appunto andare a a forzare poi anche perché francamente non mi sentivo di scegliere se era una tromba d'aria o d'acqua al posto di Rimbaud e quindi però appunto è un esempio un po' come quello che ha fatto lei grazie prego se ci sono altre domande se no io ne farei una adesso proprio su alcuni passaggi che hai avvocato che riguardano le poeme della mer e che già è la mer in effetti il poema della mer effettivamente io sono d'accordo con la scelta poesia del mare vi senti? vi sentite bene? adesso sì sì sono d'accordo con la scelta della poesia del mare è vero pure che però poema in francese vuol dire qualcosa di differente da poesia poema significa il componimento il componimento concreto scritto mentre poesia è in termini molto più astratto come dire proprio la dimensione poetica la dimensione della poesia poi il poema della mer c'è anche un genitivo bisogna stabilire se è soggettivo o oggettivo però io sono molto d'accordo con l'idea di poesia del mare perché effettivamente nella sesta strofa dopo che lui si è lavato di tutte le tracce della società non è più guidato proprio da tutti gli elementi che lo caratterizzavano come battello commerciale come battello che ha una funzione all'interno di una società dice ed è l'orge mi si vengono le poesie della mer io in questo tema della mer ci sento anche la sonorità che riporta a madre e quindi vedrei come dire una sorta di nuova nascita di nuova filiazione per cui alla fine quel genio della mer io non lo vedo affatto come un suicidio proprio come consegnarsi ad una nuova nascita ad una nuova madre ad una nuova filiazione per cui sono molto d'accordo con l'opzione nel mare che lascia aperta questa cosa e quindi qui si vede proprio come la traduzione in realtà interpreta in modo importante perché tutte le altre e che sono maggioritarie poi interpretazioni che lavorano come una sorta di suicidio io per esempio non sono chiaramente d'accordo molti studi critici vanno in questa direzione così appunto più di caduta più mortuaria no ma io sono assolutamente d'accordo che invece bisogna lasciarlo aperto anche perché già quando ho fatto la lista delle varie allegorizioni possibili insomma sono tante quindi è chiaro che più possibile dobbiamo bisogna cercare di lasciare questa possibilità no io come vedi sono d'accordo effettivamente anche l'analogia del mare come madre quindi come il liquido amniotico se vogliamo la nuova nascita eccetera è sicuramente una possibilità di lettura sì certo si è molto anche influenzati dalle strofe immediatamente precedenti di quella finale in cui appunto c'è questa nostalgia questa paura dice se agogno dell'acqua un mare una pozzangra però in realtà quello lì è il segnale come dire di una difficoltà di una paura nell'affrontare un nuovo un nuovo viaggio che però poi alla fine viene come dire accettato esatto magari c'è sì è questa sensazione di sentimento di smarrimento nel momento in cui si acquisisce la libertà che è anche poi un momento della crescita se vogliamo appunto lo dicevo prima se vogliamo fare un parallelo con il fatto che lui sta andando dalla casa nativa alla grande città è assolutamente coerente anche con la sua fase della vita il tipo di sentimento descritto infatti e poi questa idea anche della collana è molto bella in effetti come diceva Antonio c'è in effetti un po' anche un sentirsi alla fine liberarsi e proporre forse c'è anche un'altra cosa stavo pensando perché in effetti abbiamo detto che il traduttore deve trancher deve decidere qui però come dire in realtà la decisione alla fine viene lasciata diciamo il fiammifero acceso viene lasciato al lettore perché alla fine è lui che deve decidere poi come sempre è un'altra curiosità il diritto il lettore lasciamo il diritto al lettore di preferire se vuole un'altra versione comunque non lo so io sono rimasta colpita adesso l'ha detto stampa di Mucchi mi ha mandato un messaggio che aveva ricevuto su facebook di un lettore che molto semplicemente diceva mi è piaciuta questa idea leggendo più traduzioni si ha veramente una visione completa del testo di partenza era un lettore così semplicemente appassionato e grazie volevamo fare esattamente questo quindi sembra che l'esperimento sia riuscito infatti è pienamente riuscito direi in effetti e sulla poetica dei traduttori come dire tu un po' hai detto qualcosa della tua poetica ma hai privilegiato il ritmo il ritmo nel senso di ma il traduttore come dire ha una sola poetica oppure varia a seconda del testo che traduce beh direi che con almeno di solito ha almeno un'idea che è la stessa per la produzione di un determinato autore poi guarda per esempio Margoni secondo me è un critico che traduce per cui si capisce chiaramente che la sua traduzione è un supporto alla sua attività di critico se leggiamo per esempio le sue note alla fine di introduzione ai vari componimenti sono bellissime la traduzione in quel caso va a supportare quello che è il suo il suo lavoro di critico quindi viene dopo non c'è prima la traduzione e poi il resto no secondo me tendenzialmente più o meno l'approccio l'approccio al testo deve variare di volta in volta però l'indole di chi traduce è la stessa quale che sia l'autore il testo certamente dobbiamo fare questa operazione di avvicinamento io in alcuni casi ho detto che la traduzione è un esercizio prossemico perché dobbiamo considerare la distanza che ci separa dall'autore e quindi la distanza che separerà il testo tradotto dal testo di partenza però quindi ogni volta bisogna riflettere ex novo sull'approccio da adottare a un testo però penso che ci sia comunque una matrice comune secondo me tranquillamente si potrebbero fare dei volumi sulle traduzioni di Antonio Bibò e vediamo che più o meno c'è una tracciamo una poetica che è come dire ben definita stai parlando del tuo prossimo volume è la prima volta che becco delle royalties c'ho molti parenti che sono la famiglia numerosa benissimo se non ci sono altre domande possiamo salutare la curiosità ha avuto modo di vedere anche le traduzioni spagnole del batuivro no quelle spagnole no guarda so che ce n'è una bellissima in greco ma appunto non mi è stato detto se ti interessa ci sarà poi scusami ci diamo sì certo sono passata al tu ci sarà adesso per la RIEF occurerò un dossier che uscirà penso alla fine dell'anno prossimo sulle traduzioni di hanbo da altre lingue quindi dal tedesco dal giapponese avevo trovato purtroppo non potremo inserirlo in questo dossier ci sono delle traduzioni in amarico quindi sono stata in contatto con questi traduttori etiopi e sul lavoro che hanno fatto per renderlo in amarico ci sono delle traduzioni in creolo quindi veramente è molto ampio no comunque alla domanda la tua domanda risponde di no nel senso che non non li ho guardate tu forse hai in mente una traduzione qualche traduzione per vedere perché insomma hai fatto vedere la traduzione di Beckett e quindi con l'inglese no hai ragione è vero devo dire che essendo così numerose quelle in italiano ovviamente le ho guardate più o meno tutte non soltanto queste dieci quindi non ho aggiunto altre lingue grazie prego e qualche minuto lo abbiamo ancora se c'è qualcuno che vuole fare un'altra domanda altrimenti se no come dire ringraziamo nuovamente Ornella Tagliani e le diamo magari appuntamento a una prossima occasione però grazie davvero tantissimo e a presto grazie a voi